e ti pareva che mi cancellava qualche cosa sto schiposo video di puttani che ho fatto? engine crash test tu che stai facendo? lo store un attimino non so se togliermi di mezzo engine crash test così non lo vedo più attormentarmi le balle oppure ma si lo tolgo ammetti che c'è una pista che mi fa cagare metto quello una skin di merda per una gara di merda legittimo legistimo calcolo della qualità come vuoi mi dica lei ah io sono pronto ah mi fai fare il giro la tauna ora vediamo se con le A non andremo veloci in ogni caso io ho provato a metterla senza vediamo che succede vediamo che dice se dice tutti i giocatori hanno abbandonato è un big F guarda siamo già staccati non ci sei più ah ok allora è proprio che sono andati in buono perfetto abbiamo verificato che che non è dal giocatore il giocatore da me manco lo dice boh mi finta adesso l'IA quando provo a farla cioè sono andato nell'opzione e ha messo difficoltà facile subito non era senza IA quindi lui prova a caricarla madonna ma cosa come si non non come si può andare o col culo probabilmente comunque sono in attesa io sono sbigottito proprio sbinozzito sbinozzito yes bombe in buco bombe in culo ecco lo stesso cazzo di controllo una pianta da fanno gli scherzetti ho tipo il morale a zero a meno uno perché mi sono messo a pensare cose che non devo pensare come al solido per durare controllo che mi fa deprime perché non tanto sia nuovo porco dio porco dio porco che cazzo era ma by a crash e ho distrutto la lobby ah già dicevo ok chiedo scudo per la la abruptness con cui ho fatto sta cosa ma era necessaria no no ho fatto esci col gruppo sai la grande la grande lottura dei cojoni è che dobbiamo sorbirci il podio ogni volta alla fine come se già i caricamenti non facessero perdere abbastanza tempo bello bello cosa è bello l'unica cosa che può rendere buono un podio è un glitch di qualche personaggio è come ben sappiamo qui non succede solo con noi potrebbe succedere ti ricordi la prima volta che è successo solo eravamo solo noi due vero di pinstripe e invece venere una skin era il mega corruption questa la vincita ok riprendendo da ieri aspetta me lo vincere il costo dove io ho perso un cioè dovevo vincere due però poi ne ho perso uno perché l'ha finito non mi ricordo se ne hai perso uno perché l'ha finito o no di certo uno l'hai perso perché ti è andato in mona la corrente la corrente esattamente io ieri ho rimasto al punto che ne dovevo vincere due e ne ho vinta una poi ho vinto l'altra e me l'ha finito il bonus quindi non riesco a capire se tecnicamente mi aspetta un'altra o no facendo un calcolo stiamo così stiamo così non ce ne due e basta come vuoi non me scandalizza non te va di stare là a fare big brain calculus il big brain non esiste anche se no se esiste sta pensando una cosa che non ha senso pensare perché se no poi io sembra non sensi no vabbè non c'entra no vabbè che cosa me lo sentivo da una vita non lo so perché mi sono uscito questa cosa e preferivo dimenticarlo anch'io sai ovviamente non è che stai pensando appunto alla persona che sto pensando io che venite in mente col fatto che sto pensando ah boberapps cioè voi e lui eravate fissati per un periodo assai col non senso adesso mi fa assaiare il cringe nominarlo a parte che si è rovinato da solo ma porco dio poi dici perché l'ai a perché l'ai a porca madonna questo è un follow up del pensiero di ieri di riusciare in un nomina mai yeah ad un certo punto mi è da pensare ma non è che ero l'unico stronzo con cui lui andava d'accordo alla fine che mi dassi idea che il mano parlava solamente con me e io sono riuscito a a trattarlo di merda non so quello è il mio favore no perché comunque è diventato molto spaggy con con me pure non è che avessimo rapporti di merda la domanda è è diventato spaggy con me per colpa di ma appunto assolutamente che come è successo con me è successo pure con con lui lei ha detto a entrambi che tu eri diventato cattivo bla 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 e cazzo d'are fa vedere gli screenshot dei tuoi che l'ha maltrattato e cazzo d'are non gli hanno di maltrattamenti proprio quindi sì penso sia proprio per quello e tu chiaramente non hai aiutato e questo ne avevamo già discusso vabbè sì ma allo stesso tempo ti stai allontanando a causa sua e quello che ha fatto un po' di backfire queste cose ne avevamo già detto già il pulco è che lei ha fatto sempre però me l'ha venuto tutto insieme e me stavo un po' tutto in giro come al solito un po' tutto in giro tutto in giro ci vediamo ci vediamo la traguardo ah madonna madonna il fatto che ho visto fa una mossa alla spiderman hell ye perchè sto andando a 100 oh ti ho visto con l'icona rossa madonna ma cristo addio l'ho lisciato di brutto pure questo lince che è ye ye lagoni no ho visto la becker l'ho presa in pieno e non ho avuto l'effetto tecnicamente da me ha toccato il muro quindi boh forse altro priorità la mia madonna addio ed è a difficoltà facile stai si purtroppo non funziona come su single player cioè su single player la li ha manco falle di rapare se no le fa minuscole e basta dove di che la vedi sempre ancora di passare anzi pure camminando in maniera normale riesce a superarle quanto è facile ribito è molto facile già io sono straconvinto che questo sia questo sia binox che vuole mettere un tipo rallentamento al mega farming cioè oddio non c'era manco bisogno della zionaccia sopra this is why we can't have nice things però che tu mi sa incazzare che non c'è comunicazione non c'è comunicazione la figura ti sono troppo occupata a dire siamo così felici di aver lavorato ma porco dio è andato a fanculo non lo so sarò io forse che so mi sono viziato con Warhammer magari che loro dicono spesso e volentieri le cose per tutti beh loro ci tengono al prodotto binox invece è qui solo per i big money a quanto pare che parca puttana sono intanto che sono preoccupato di cambiare i nomi delle cose e quello influiva sulle vendite se poi dicevano ma non è uno spazio sicuro per una cosa del genere è qualcuno di ritardato come Activision che ordina sta cosa a binox probabilmente o binox stessa che tipo all'interno ha che ne so roba tipo qualche trans idiota che dice oh ma mi sento ferito dal fatto che si chiama black tra poco bannano la parola black dio porco no si no si arrivo al dana episodio del 2000 so che poi ti lo sei più visto corpus cofi il video dove parlano dei mod corrotti che fanno mi pare di si non mi ricordo il nome però mi ricordo che uno era stato chiccato dal suo profilo telluric telluric si allora l'hai visto si mi sembra il caos di quella persona orribile poi già metta a chi ha i soldi alla gente si metta a fare cose estremamente discutibili il caos va a pigliare i soldi anche anche che vedeva soldi da persone per finanziare le sue cose ho capito a in qualche modo che ha fatto da soldi da qualcuno e composta che vergogna cosa gente che difendeva tanto questo fatto del telluric unicamente perché era finito ma una corda al collo tipo non è più economica ma noi abbiamo bisogno di gente che rappresenta noi ah sì quindi voi volete qualcuno di così squallido rappresentare quelli come voi ma no semplicemente che so come i froci no ora con tutto il rispetto però si possono avere amici del genere che non ostentano la propria sai intimità e poi ci sono le checche che lo ostentano per far dire che sono speciali loro quello è il problema ma era necessario sta blue orb vedi che tanto devo arrivare secondo io però tanto lo so che quella cazzo di blue orb ti era premesso chi vuole e te pare io c'ho cos'è che ha fatto cos'è che ha fatto l'ho visto dalla mappa non ha preso la scocciatoia ma io ho visto che si incastrava e poi mi ha fatto sprecare la maschera madonna chetto mo attivo la maschera vabbè tutta la terapia la cazzo che succede io ho detto no io l'ho visto l'ho visto fare tre scatti e poi ha detto ah no cambi l'idea vado vado per le lunghe vabbè proprio la grande qualità mi dicono la maschera è un posto anche la tua il mondo eh sì questa deve essere la punizione per tutti quelli che hanno fatto il gliccino può essere oh no sono scivolato come farò come farò queste pers ma porco pure pure l'androide già dobbiamo perdere 10 secondi per colpa di due armi di merda che non sono state nerfate guarda se fosse il loro piano malato per 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 l'antifarm onestamente sarebbe qualcosa di orribile orribile dubbio che siano così stronzi da fare una cosa del genere sarebbe disgusting al massimo al massimo riducevano un po' time facevano un po' come destiny che arrivava a i i shadow nerf a guadagno 10 più vero però il fotone non è shadow oh eccolo il mad boy boynish oh no qua è un'altra cosa da quell'altro come se la tira che mette il video di dragon mines time trial maronne 1 21 e 21 e altri 21 poi la mattina mi ha cambiato uno screenshot di altri besties sacri piano cartesiano oh hell yeah matteo tutto fare matteo tutto fare che essenzialmente il cugino di bob l'abbia esatto merda una volta che me la rischio cioè no non una volta me la rischio sempre come devo vincere giustamente non posso rischiare più perché mi colpisce anche se è distante mi sembra legistimo o così si dice già per qualche motivo chissà perché proprio gli speed sono i più veloci ma chissà perché proprio oggi ho sti occhi strani come se vedessi delle linee piccolissime boh sì non è che c'hai un ciglio dentro la rocca no anche perché è tipo intermittente per pochissimi secondi boh non lo so marvelous marvelous indeed e succede solo quando guardo uno schermo qual'è la cosa strana vabbè ah sì no dovresti dovrei iniziare a considerare sta cosa non lo so io ho perso conto degli anni in cui indosso occhiare però allo stesso tempo il solo pensiero delle lente è contatto nooo nooo guarda mi fanno vomitare mi fanno vomitare proprio a spruzzo meglio i vetri guarda c'è che schifo una cosa che da dentro l'occhio madonna mi rende upset tra l'altro è successa una questione per cui una tizia mi ricordo che cazzo era la statunitense comunque aveva problemi di vista e a quanto pare aveva un accumulo di lenti a contatto in un occhio e non se n'è mai accorta la la geniaccia capito mai accorta ma stiamo doppiando lì a mai si i tepe i tepe all'ultimo la iana 51 88 l'ultimo giro k 2 45 sembra da ginevere da per l'istante beh meno male guarda ma scusa alla fine la blue orb ci ha raggiunto o no boh non so che non mi ricordo boh boh del comunque è bellissimo perché con sto glitch puoi ottenere a quanto pare lo shippinator sul 3 e possiede 61 mila munizioni ma ok aspetta c'era una pagina sulla wiki tcrf tcrf collection the cutting room floor ho visto quel video dovevo usare lo shippinator come mochi si quello è bellissimo l'ha caricato male con il coso poi con il casco è bellissimo ho messo la ho messo la pic praticamente l'unica funzione che ha è arrivare fino alla v2 e nel tentativo di caricare per l'appunto la l'animazione per renderlo v2 e crash cioè è fantastico io è che non ho sbatti di rimontare la ps3 altrimenti mi metterei a sperimentare perché mi sembra una cosa molto divertente questo nel momento in cui non corrompe però il bios la ps3 ma non dovrebbe succedere perché l'unica secondo gli analisti l'unica cosa che scrive è una zona di memoria che contiene il menu e il salvataggio non va nella mra della ps3 quindi dovrebbe essere sicuro oh 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 ma vabbè what ti ho sfiorato e il gioco ha deciso che io devo driftare malissimo e andare di sotto ok giustamente questa devo vincerla io quindi eh non basta che ci fanno perdere tempo lì con gli orologi figurati ma porco del di cos'era quell'animazione che mi ha fatto di schiacciata esattamente non si mantiene ma anche a cazzo con tutto che ho un action di certo ora non si mantiene un cazzo non ho rotto i coglioni madonna non ho rotto i coglioni non sto riuscendo più a riprendere boost io cazzo non lo riprendo perché non metto la roba tutto ovviamente a questo punto devo pensare che lo shipinator viene tipo dai file del multiplayer e in qualche modo con questa corruption puoi trasferire i file del multiplayer al single player e quindi di attivare lo shipinator però è interessante che abbia 61.000 munizioni è proprio lo shipinator essenzialmente il modello dello shipinator che però non si limita a fare pecore ma anche galline mi ricordo che c'era altro giusto forse un maiale c'erano pure i maiali per apps non mi ricordo esattamente è passato fin troppo se non avessi avuto una risa di merda ai tempi magari avremmo fatto qualche partita in più tutti quanti già e se il gioco non crashasse ad ogni minimo porco anche 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 e bastava che si apri il menu della chat e rendeva tutto in mona già anche se ero il menu della piatta ovviamente poi quest'altro c'è ah si c'è pure il guanto bomba che però tipo crash ci sono i green scarponi tra l'altro mi hanno fatto notare che non c'erano sezioni in game di green scarponi nel 3 mi pare di capire perché io non ci ho mai fatto caso a sta cosa non c'erano green scarponi nel 3 a quanto pare perché qui c'è scritto che c'è un o è un no aspetta che non può essere però effettivamente io non sto ricordando in questo momento sezioni i green scarponi nel 3 nemmeno io mi sembra che fino ad adesso non ci ho mai pensato a sta cosa ma credo nessuno pure io che sono un grandissimo fan del 3 già non è senso che è stato il mio primo l'ho rigiocato per parecchio tempo vabbè pure tu a sto punto suppongo aspetta questa è mia shari stiamo farmando coins stavo controllando perché ha scritto in chat stiamo farmando coins semplicemente siccome poi tu dici eh ma li faccio in matchmaking vabbè non hai detto una cosa del genere però yes ci siamo capiti malissimo dice eh sti cazzi a noi servono per comprare le cose nello store appena abbiamo finito questa ti invitiamo nel party al vuoto e puntualmente quando passo prima parte pure la blue orb mi pare legistimo sembra the history of my life bro merda non posso leggere la chat poi mona io che vanno a aprire il programmino per la chat e vabbè ah la chat di twitch adesso ci sto mettendo si si manifesta ho dato i permessi a lui la roba di poter parlare a me no tu ce le avevi già ce le avevi già dal 2016 madonna non l'hai veni mossi da allora? certo ma come te permetti proprio madonna c'è Isabella che ha preso un vantaggio tremendo dagli altri merda come l'ho sfiorato quello era molto close ci vediamo oh 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 si sente da qua è fantastico è fantastico boh ma sveglia è fantastico questa sveglia è molto fantastica ma addio di dio shari metti di pronto che tra poco arriva un big invitazione la maschera devo perdere la forza e mi dà la maschera del memes maron 6 decimi che gara combattuta eeeh allora mazze ah non lo vedo online f vediamo se è scritto questa cosa ah sta guardando la formula 1 fammi sapere come va a finire che io non ho sky che sono un poveraccio lel ma è una chat se vuole connetta allora no non ho manco la ps4 accesa ne potete capire quindi è boh vuole perché vuole trollare quella solita roba sua lel non ammetto di voler gioinare ma che mona pure con la faccina che sorride ma come te permetti essere balordo il bustiere come diceva perché non li carica perché se ti connetti dopo nella devo dire di primo quanto per banto cr per uso di parolacce banto davvero cazzo secondo me cazzo di parolacce infuzze maron l'unica cosa per cui ti bannano è eeeh oddio oddio onestamente boh perché va in base a come ti stai simpatico potessi essere bannato per un minima cazzato però vabbè stighassi proprio stighassi proprio aspetta ma quindi caguale è il bergetto vuole gioinare o no? non capito se sta a guardare la formula 1 ma perchè dice il boh regina? no lui ha detto non ho ma questo chiedo ma facendo elevare la mia autorità di modi di danno allo stesso maron maron le grandi citazioni megaban vero ehi timmy eheheheh ed è tua mi pare questa che mi ristrò con l'uomo di padre e che questo è successivo ma facendo ma facendo ehm ehm rispetto come cazzo era? si ma non me la ricordo nemmeno io vediamo se vediamo se c'è su youtube onestamente la tua privacy è per questo busso l'autorità di padre entro lo stesso boom cosa ha tirato fuori? se non ricordo quello cazzo no no è giusta l'hai l'hai tirata fuori molto fermetemi oddio cancero ah sono fermato vicino al non c'è qualche altro simbolo di binox in giro tipo madonna è partito uno shield pepepepepe ma l'ho preso vabbè ah il gioco ha detto no oh 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 merda è bello che ti vedo sottiletta da me quello è il meme probabilmente se guardassi dallo specchietto che trovi fuori maronna ok me la piglio io ah guarda la stronza non fa mai discriminazione leggi cosa ha scritto leggi cosa perché si toglie il bingo e lo fai raccato a random mhm cioè lui non ha mai percorso il tracciato nella sua interezza quello è il bello mi pare di capire no mi ha colpito la blue orb e mi raggiungi perché sono senza riserve yes perché io non mi sto mettendo minimamente di impegno bel meme la prossima è la vincita di sicuro che due la parte di reazione che trovi la sc non l'ho mai vista ora che ci penso eh non c'è non c'era ma è il tempo di dirlo ma è il bambino non c'era ma è il tempo di dirlo ma è il bambino ma è il bambino ma pure il video dove c'è la shipinator con animazione del lancia lancia no come si chiamava chopper mi pare chopper che era lancia pluristella in cosa vabbè ma è una foto madonna ci vediamo alle 15 sono le 15 attenzione e sono le 15 e 01 ma come te permetti ah ok 16 16 8k non dire 16 che mi ricorda rec 16 e mi viene il ptsd oh no f ah e mi sono visto la roba di twin senity e ho detto marcapitana è possibile che fanno animazioni più smooth la che in giochi più moderni e ma perchè te spiego la questione è che questa che ne devo vincerla io vengo schiacciata come un mona la questione è che andavano a 60 fps su ps2 poi con l'arrivo della ps3 e della ps4 ma di più la ps4 non ho visto solo quella cosa di animazioni smooth ma anche il fatto che proprio come sono fatte le animazioni sono fatte bene che tu vuoi vedere rattle of cortex pure quella andava a 60 fps però l'animazione era un pessimo già parlo di livello tecnico non di ah vabbè si più che altro però il per quanto riguarda i primissimi giochi per ps2 era tutta una merda c'è tipo mi ricordo formula 1 2001 e avevo un handling orribile i primissimi giochi per ps2 secondo me sono tipo ultra cursed poi dopo un po' che è una cosa della memoria ehm hks2 è uscita nel 2000 o 2001 o 99 in giappone credo boh potrei potrei sparare una grossa cazzata però 2000 sicuramente eh 2000 c'entra ah beh 2000 sicuro aspetta ho 2000 sicuro qua c'era il 2001 si il 2000 c'entra ma non mi ricordo se è per il giappone o per noi altri boh vabbè quindi in sostanza Ratchet & Clank 1 non rientra tra i primissimi giochi no 2002 già stanno iniziando a trovare degli engine migliori anche perché è rimasto in sviluppo per molto più di tre anni il loro motore di gioco e quindi l'hanno ottimizzato invece Enter the Dragonfly l'hanno fatto al volo perché era un cache grab il Radio Cortex penso lo stesso il Radio Cortex è uno dei primi giochi che addirittura ha il formato cd quello col disco tipo blu de sotto hai presente? si praticamente si mi pare di avere dei cd con il disco mh mh vabbè comunque si si mi pare di essere stato più una questione di laziness qua negli modelli sono un po' proprio orribili si ma era tutto rushato per i cache grab cioè l'unico che si salva è Jack 1 che è del 2001 proprio l'unico gioco che ha la fluidità giusta ma poi il resto di quello che è uscito nel 2000 e 2001 i primi due anni per la ps2 è tipo lo schifo assoluto sì io stavo dicendo che perché arrivo a preferire la pratica dei TOS di WS1 piuttosto che la di Torx del via a quello si ma perché davvero i modelli sono qualcosa di obbligo ti dico se tu vai a vedere il video dell'anteprima di Rejet con tutto che è fatto da una cassetta si vede che è superiore e quello era un prototipo del 99 quindi insomma si esatto ma anche quello di Pochitaro eh e sono prototipi del 99 secondo le voci ma di fatto dipende solamente da chi li fa è sempre più questione di chi li fai quelle lì sono quella lì è roba che è stata chiesta dalla Universal ai tempi che ora dovrebbe aver ceduto i diritti ad Activision perché ha spremuto malissimo eh i giochi al tempo così tanto che ha creato tipo dei cash grab palesi e ha detto oh sbrigatevi che dobbiamo pubblicarne uno all'anno per tenere alto io non so con quale pazienza abbia lavorato Traveller's Tales per Twin Sanity però il fatto che hanno dovuto far tagliare un sacco di roba è un male se solo Activision capisse che c'è domanda per il remaster di Twin Sanity con tutti i livelli è partito un grande cloacchino tra l'altro quindi magnifico già io avevo uno spirito però giusto dicevi ma io secondo me l'Activision lo sa che vogliono Twin Sanity solo che probabilmente le proprie non andranno come desiderano la gente la gente desidera una versione rifatta bene con tutti i contenuti con tutti i contenuti dai tagliati o almeno quelle idonei diciamo esatto al massimo al massimo non viene calcolato quello con ogni tranche che viene mezzo divorato per bambini eccetera il fatto è che secondo me se è ritorno a Twin Sanity sarà tale o quale a quello che seguiamo si perchè c'è la vola sempre la Traveller Tales perchè di fatto sono stati sempre loro a mandare la richiesta all'Activision nel 2017 praticamente a un anno di distanza c'era e c'era questa lettera del credo del capo dell'azienda che diceva complimenti per il vostro lancio saremmo contenti se ci ci permetteste di lavorare su a Twin Sanity sì esatto thinking emoji ebbè a quanto pare il bomb globe si chiama paradox error su rc3 bello bello io ho letto paradox error giusto alla fine di rc3 alle scontro dopo quello succede sempre purtroppo qua c'è tutta la roba la roba tutta la roba tutta ora che il account del gare ha scelto il gare 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 è giusto il gare 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 non sento se era uguale all'uno no se invece era il gare c'era il centro la cosa dell'arm e di lato c'è stava il prezzo però c'era un video della delle 3 del 2003 con l'interfaccia del venditore dell'1 e la grafica del 2 e dove spuntava tipo quello in uno dei video che hai fatto vedete si non mi ricordo se l'ho passato o meno però è nella lista che ho che ho che mi hanno passato i speedrunner poi al tizio ho passato sempre i video di di gladiator però penso di aver rotto i coglioni di fatto ha smesso di rispondermi dai bello blu orb e treno nice chi è questa? questa è tua ok ouchy ouch la cosa paradossale è che andando a vedere i valori poi tipo in base al bolt count di un certo valore e comprare dal venditore direttamente le armi potenziate a v8 quello fa ridere quindi ti skippi tutto il grind la roba tutto quella è la parte del direttimento qua almeno senti l'arma non faceva cagare bello sottiletta ti sto vedendo è venuto nel mio mondo fuck ora sono sottiletta io è stato questo incerrato in Torino yeah e giustamente il treno dice no c'è pure una blu orb potenziata in arrivo che è magnifico c'è questi botte che ha avuto la capacità di bustare velo vero c'è il oh my boy Nash però voglio vedere se quella blu orb prende la shortcut vediamo stavolta l'ha presa ma che cazzo vabbè bel meme bel meme devo dire nooo ma guarda che schifo vabbè però mi sono salvato alla blu orb lel no non mi sono salvato alla bomba ora a quanto pare poi la è pure fattibile nel 2 su gladiator però i valori di botte che devi raggiungere sono superiore a un milione non che sia difficile raggiungere un milione però su the stand che gioco non difficile nel 2 su gladiator forse nel 2 un po' no manco tanti nell'1 era tutta un'altra cosa la differenza di ottenimento di botte tra 1 e 2 è abissale nell'1 però sto glitch non funziona quindi F esattamente ci hanno fatto caso se è ancora attivo? buh io ho appena un ultimo di 610 allora è ancora attivo è vero che non era l'ultimo buh che tu c'hai? poi puoi pure comprare la l'armatura a commando del 2 ma appena esci dalla monitora che lascia il gioco quindi cose cose belle l'armatura a commando del 2 la primissima yes che è anche quella che si vede nei top nei filmati esatto e ti fa la spiegazione di tutto della roba tutta quando stanno all'accordamento di 30 a giocare e che succede lì perchè si riversi di pura? c'è pura in gara? si ok si decisamente sta dietro è in gini maroni eccola è ricamata non chiedermi cosa è successo perchè non lo sa ti ho visto sparire ti ho visto sparire non devi vingerla tu dopo tutto quindi il gioco sa già 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 qui è i doloni qui è i doloni arriva tutto il tuo cazzo il tuo cazzo il tuo cazzo il tuo cazzo marone mi fa in questo libro è il tuo cazzo che il dio è porco mi fa in questo libro è il fatto che il foso del curve di nitro più LED funziona al contrario rispetto da quelli due classici in che senso al contrario ah si da sinistra a destra non ha senso secondo me che sto trono di me mega f si ma tra l'altro non ha senso su nitrofuel led che tipo si riempie subito la prima metà e poi rallenta dopo come fa la gente a trovarsi bene con quello io non lo capisco onestamente probabilmente unicamente perché ci stanno i cosi ci stanno le barre in mezzo adesso è un giusto che te probabile ok questo qui diventa da verde a rosso subito non è che c'è una cosa di giallo intermedio no devi fare da verde a rosso quindi tu devi pensare al quando è che ti diventa il vero rosso diciamo così che bello il bustino bello già una grande meraviglia oh c'è ancora nice madonna poi c'è il levitator glider crashes the game voglio andare a vedere la lista degli oggetti che possono essere ottenuti però voglio capire c'è un item che si chiama aiuto che è semplicemente il PDA madonna ah puoi comprare tra l'altro third person mode first person mode e lock strafe ti compri la telecamera è meraviglioso poi ci sono molti paradox error perché sarebbero gli upgrade eliminati del Rhino che nella primissima beta nella primissima beta potrebbe arrivare fino a V8 a quanto pare oh perché boh perché rimuoverlo era il tempo geniale di sempre no ah io mi domando perché rimuoverei il Rhino 2 visto che il 3 a V5 è tipo brutto già molto brutto se fosse possibile io lockerei il Rhino 3 al V4 eh ma anche dalla 2 alla 4 semplicemente ma se la 4 sarà più missile da vero beh guarda tecnicamente sto glitch può permettere il downgrade se ti puoi comprare hmmm 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 non so se dovrebbe essere un terreno buono per testare sta cosa però hmmm rc3 intensifies madonna c'è la u? si ho fatto 610 poco fa quindi ok e basta con ste orb però oddio spero di trovare una maschera o uno scudo ma spero di trovare una patch 1 e 08 che fixa sta merda perché togliermi il farming chill sti infami guarda il lato positivo è che ancora non hanno facciato un'unico gli abomini quelli quelli mi incazzerò se quello è il reato patcharli proprio f alle mie riserve potresti? non potresti bebe oh madonna il mega f proprio il mega splat posso immaginare la magnificenza di trovare due ntropi digitari alla stessa lobby proprio il cancro ma magari averci la pazienza guardate che nel club ci sta giusto una volta che abbatti il drago tutto il resto è una strontata beh perhaps non dico per esperienza guarda perché oxide in qualche modo sono riuscito a battere due volte alla fine quindi ye ma te oxide a stazione oxide dice ye dimmi che è finito è finito di fatto allora ci buttiamo sulla solita matchmaking del cazzo aspetta un momento aspetta un momento aspetta che mi fermo un attimo e aspetta che mi fermo un secondo prima ho bisogno di fancosa un giretto al al beat stop oddio cosa sto vedendo sto in trans qua con l'uovo l'uovo d'oro io stavo vedendo Rebecca che sta assieme a Cugini eh esatto e appunto sto leggendo è del 2016 si ok maron c'errebbe che ti ricevi dice due viri a bazzi in dei miei in dei miei 25.000 coins mmm mmm don't play with us like that bel ladri di pancetta cristalli stanto è un esperto codiglio porco viola crepuscolo ah si abbiamo sta merda arriva prima senza usare neanche una pedana del turbo in baia crash mandato affanculo completa coppa crash ma ma dolma che cazzo no io ho una parola io ho tutte e tre le skin di engine in questo momento a visualizzare bello il blessing ballerina ed ending poco il grande bless eppure è bello vedere che ho 0 su 10 sul campione online e siamo a sabato proprio la meraviglia peccato che non me ne fotte un cazzo guarda vado a sparare a me subito la time trial così faccio le quick challenge al volo ah ok io stavo per tornare ma ok un minuto e mezzo troppo le cose veloci sono nella posizione 567 minchia il totale 913.082 giocatori questo con me è diventato a priori un milione aspetta il crew 2 non aspetta il crew 2 non ci arriva nemmeno ogni summit arrivano a 130.000 e basta però il totale dei giocatori è 2 milioni nella leaderboard dei punti si vede che non è proprio bello come questo beh però si ci spero che arrivino a un milione dai sarebbe bello onestamente mancano ancora 15 giorni quindi la possibilità c'è già io sono così lazy fuck che mi ha resettato la personalizzazione offline e ho ottenuto crash proprio lazy fuck almeno poi devi mettere dei crash biker e poi lo devi lasciarti i crash e poi lo devi andare in mondo no ma ho avviato spammando x ecco perché qual'è la pista più veloce di tutto in assoluto? è fiale di roo penso solo perché non è un cancro prendere la shortcut la roba di town di chiunque non so di town cioè di town gli mancano 7 gare da quanto sto leggendo ma aspetta tu nel save avevi delle vittorie extra che hai perso? sì ma l'ho già recuperato da un bel po' ah buon buon naturalmente asciari che probabilmente doveva ricominciare tutto da capo nel no negone è a posto ah l'inze c'ha tutto ancora figurati devo fare ancora 24 gare con me la domanda è vuoi proprio sottoporti a questa maledizione? a questo course sì perché voglio sbloccare tutto giusto davvero devo ancora finire con Isabella? due gare con Isabella ah ok namo va a me non mi ricordo mi faccio a paura già già perché sì sarà fatta nelle mesh rosa oh mi ha tolto la customizzazione anche dal coso ma vai mona nessuno ti ha chiesto di togliermi la customization gioco di merda maledetto maledetto oh aspetta l'ho aperta privata sì perché sono un mona quindi mi sa che la vorrei disbandare si tocca rientrare chiedo scudo ma puoi comprare pure la mappa stellare o il master plan di di z eh certo loro usano il master plan comprato per 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 schippare tf9 luca fox 90 sono bestie sacre deboli già cosa succederebbe se se crashasse tutto vabbè vabbè mi chiedo di cosa succederebbe se una neutral girl venisse gricciata con il coso di un'altra neutral girl forse cambierebbero solo le animazioni boh cioè per dirti sono abbastanza simili tra loro le cose dovrebbero essere minime in teoria molto probabile a me segna solo vuoto a mappa vabbè vabbè dove vabbè dove non si gricciava sta mese fuego piso spersia ma che vabbè pezzo di persia piso spersia colpo di fulmine bel meme ah ah colpo di fulmine oh no Oh no, che cosa cazzo è? Dov'è? Oh! Un piccolo norme è quello che deve essere Sì E mi ricorda Biale elettronico Porca puttana, devo cambiare il volo Molto bene Beh, speriamo che arrivi a podio così Non riesco a capirlo però Credo che Credo sia un pinstripe sputtanato Può essere Ma no, aspetta No, quello qui prima era Lizza Mi sa che quello è una Lizza sputtanata Può essere A me continuano quegli occhi a ricordarmi quel topo famoso Di cui non ricordo Il Delle 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 Ecco Fumoso Anonimo Esatto Vuoi vedere che è qua? Aspetta No, ce l'ho davanti Lo volevo dietro Sì, quella è a destra Borea 94 Sì, quello è un ex lead Mega meme Ok E il topo è presente Oh sì, vedo gente che clipa in continuazione oltre i muri Comunque mi sono ricordato Mi sono ricordato da dove era il topo Di Bear Della grande casa blu Cioè gli occhi sono quelli Gli occhi sono quelli Vici, cosa cazzo mi stai facendo ricordare? Porco Dio il blue flame Spre, sei tu? Questa Emy qui Bear nella grande casa blu Come cazzo era? Non ricordo se era blu la casa Però ok, sì, Bear me lo dico Dici quello che parlava alla luna, no? Yes Poi ti passo Poi ti passo la foto E capirai che intendo Quando mi ricorda il topo No, no, no La foto del topo Non di Bear Lo so che ti ricordi Bear Ah, c'è uno che proprio è messo Lì con legumi Legumi Al traguardo F F Nooo, c'è stato lui proprio I tanti proprio lui Ev Beh, beh Beh Cosa cazzo era quel tipo Qualcuna cosa Stranno Vasi Smissi Bear Apps Bella Blue flame Che non mi muore a rami Io mi sto facendo foto Da una Emy Che nemmeno so la shortcut Qui Ma porco del Dio Lei Baker Dietro le casse Oh, quella Emy è caduta Perfetta C'è la IA di quella Megumi Che è messa piuttosto male Ma porco del Dio Ma che è sto schifo Boh Da me? Da me? Ecco Sono caduto Sono caduto Quattro volte Io perché mi sto confondendo Male Hai mancato il Ho capito Una gara cool set Per entrambi Questa Chiaro Questo deve ringraziare Il manipico Plop Per quanto pare È capace di farti questo So Sì A Thunderstruck A me lo fa sempre Tipo Ti fa mancare Le rampe Beh, grazie Adesso Oh, figlio di puttana Non vuoi piantare Merda Di Dio Porco Di Dio Ho perso L'abitudine Avviare elettronico Palle Quella ha avuto Un culo Della madonna Con Emi Praticamente Ha vinto Per le mie sfortune Porco Giù Già Gara del Cazzo Madonna Gara del Cazzo 4 e 23 4 e 23 Su sta pista E il primo 4 e 10 Ma di che Cazzo Stiamo parlando Ma Cos'era Quella Merda Cos'era Quella Merda No Eh Perché Non hai Tempo Tu Non ti raccomando Del tempo Di arrivo Peggio Peggio Hai presente L'ultimo ponte L'ultimo ponte Orografico Si Si ha preso Il laser Si è cascato No Non ho preso Un cazzo Semplicemente Non ho preso Manco il ponte Secondo il gioco Con tutto Che era Atterrato Sul ponte Mi ha tipo Fatto scivolare Di sotto Ok A un metro Dal traguardo Mi pia Con un missile Un tizio E Che gara di merda Guarda Mi ha mezzo sangue Io non Tufo Ma no Io lo abbandono Il meccino Che metto Vede la formula 1 Pure Io Guarda L'ol Ah Non c'è Beh giusto Abbiamo pure Quello In effetti Dici dopo Si vabbè Tanto sono Gli ultimi 20 minuti Allora guardati Guardati Mi nemmeno approfitto Per far meno Smicchini Giusto Ma tu davvero Ti sei ricordato Tutto Ma per colpa Degli occhi Esatto Ma che cazzo Nessuno Per colpa Degli occhi Non chiedere Ah già Quando Devi sapere Che la magnificenza Che ho io E che quando C'è qualsiasi Altro elettrodomestico Acceso Che si è connesso Alla stessa presa Della mia tv La mia antenna Va a puttana E non si vede un cazzo Quindi Rimango qui E me le sbatto Perché uno vuole Spegnere la ps4 Lel Sim se legistimo Vabbè Allora Io vado Vado a fare Uno snack Giusto Be right Be right back Yes Vado a fare Sì 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 Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Allo? Allo? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? Ehi, di che sale i miei gas di scarico? vabbè ma ora in mese cursa ed arriva completa coppa crash beh sapete che si fanno si iniziano a jump il subito dopo il primo già però il modello mi sembra abbastanza chiaro probabilmente finirà ci sarà una settimana di pausa e poi inizierà l'altro credo andrà così no dici una singola settimana credo credo non ne sono certi ma l'ho notata adesso dove mi hai detto te che c'è la foca tipo immobile io come masochista ho portato emi sulla coppa crash vabbè sarà divertente bene tutto sommato no alla fine sarà facile però io ho fatto con town sai che rottura di palle eravali popolare con town maron va a fare iniziano a me Ah beh, non bene madonna c'è small norm con quella skin che sembra kratos già poi c'è megumi che sembra quella delle zi town presente no? quella di lady town o quella delle pelle rosa oh no oh no eh purtroppo si purtroppo si crunch enduro che pare master chief pure io che feillo la scorciatore di balico al terzo giro perché perché i mega memes la cosa magnifica di balico è che dovrai fuori risarro per la sfida ctr madonna c'è una guarda meglio che avere sfide del cazzo solite che comunque che comunque ci stanno lo stesso quindi esatto vero vero è per la sfida dei salti di esatto per essere dei salti di crunch c'è la crunch pilota quindi per fortuna niente è andato troppo perso a parte il tempo e la voglia di oh hell yeah oh bello ho fatto un inizio fantastico con Amy su laboratorio engine muro a sul caldo da sotto bello bello torno subitissimo yes no no Grazie a tutti. 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 Allora, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. c'era, non so se... per 100. guarda, l'anno scorso, con l'altro, su... per... si mettono, si mettono, si mettono, si mettono... su... ecco... per... 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 vuol... 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 da... su... ... ... ... ... maron... ... buongior... e... ... 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 ha... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.